La rampa serve per i disabili, ovviamente se non possono scendere con le carrozzine diventa difficile perché per le scale la maggior parte non riescono a scendere. Un problema che si ripresenta ogni estate, la rampa d'accesso al mare per disabili tra il secondo e il terzo topolino è di nuovo chiusa. Scivoloso e spesso pieno di sassi, il passaggio a mare anziché essere ripulito è transennato ogni volta che qualcuno cade e così è successo anche quest'anno. Per i disabili è una vergogna perché insomma è l'unico posto dove riescono a venire e con le carrozzine ormai la rampa è chiusa da due settimane. Se è diversi che abbiamo con la carosella, non può venire. Io chiedo gentilmente mandate due uomini, tre, dove dalla quale bisogna ripristinare la rampa. Responsabile della manutenzione è la cooperativa Labora che ha assicurato ha fatto una pulizia a fondo all'inizio della stagione e ogni mattina rimuove detriti e sassi che però il mare riporta subito. Frequento il topolino, vengo ogni giorno, qua ho la scaletta e osservo sempre questo scivolo. Già l'anno scorso c'erano le pietre, adesso vengo quest'anno, è la seconda volta che vengo al mare e vedo di nuovo la striscia bianca e rossa. I bagnini mi dicono perché non è accessibile, perché scivola. Ci vuol niente, ci voleva un po' di acido muriatico, lo faremmo anche noi, ma dico sarebbe il compito del comune. Poi anche se vedi la pedana è tutta piena di limo, è impossibile andare, dunque devo arrangiarmi in questa maniera. Ma non è l'unico problema di accessibilità. Il signor Andrea, che è anche un nostro telespettatore, segnala anche le difficoltà per salire sugli autobus. Alle fermate più vicine ai topolini ci sono le siepi che ostruiscono il passaggio e in un caso la rampa con lo scivolo non consente agli autisti di abbassare la pedana. Per andare a prendere l'autobus qua è impossibile, ho già fatto richiesta, ma niente.